Approvato all'unanimità a Palazzo dei Ferrari un ordine del giorno affinché la politica regionale e nazionale si attivino per chiedere ad Enel il mantenimento della commessa sul servizio di call center attivo sulla Spezia con l'azienda Customer Digital Service. L'impegno arriva dopo l'allarme lanciato da lavoratori e sindacati del comparto rappresentati da CGL e Cisle Will che nelle settimane precedenti avevano manifestato per lo sfratto dalla sede delle pianazze e per il ritardo sui pagamenti. A rendere ancora più complesso il tema, nessuna certezza su un nuovo spazio e dove poter proseguire su quanto richiesto nella commessa. Si arriva ad oggi a Genova dove il Consiglio regionale ha approvato l'ordine del giorno presentato da Davide Natale di PD Articolo 1 e sottoscritto da tutti i gruppi. Positivi commenti da parte della minoranza per il sostegno da parte di tutto il Consiglio per tutelare le centinaia di lavoratori coinvolti. Sulla questione è intervenuto anche il Presidente del Consiglio regionale, Gianmarco Medusei. Approvato in Consiglio regionale è un ordine del giorno unitario firmato da tutti i gruppi consigliari per la criticità che negli ultimi mesi sta colpendo Cds. Si parla di 210 lavoratori, c'è stato ultimamente uno sciopero ad oltranza, sono stati pagati gli stipendi di dicembre, però non è possibile che un diritto di un lavoratore, cioè avere lo stipendio, ogni mese ci sia questa elemosia di andare a chiedere il proprio stipendio. Quindi i vertici aziendali devono chiarire e devono assolutamente dare delle risposte che finora non ci sono state e questo ordine del giorno impegna oltretutto i vertici di Enel per il martinimento delle commesse e impegna anche a sollecitare il governo affinché veramente ci si occupi di questa problematica che, ripeto, interessa tantissimi lavoratori nello spezzino.